Oggi è un biscotto multiraziale! Evviva! Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale! Oggi sono più alta io! Sì, brava, brava, perché i biscotti fanno bene, fanno crescere! Oggi è un biscottino buono buono! I Ringo! Un nuovo video speciale in collaborazione con i ragazzi di 55, Winston 55, i nostri amici Mauro e Antonio! Ciao ragazzi! Oggi insieme a loro faremo i Ringo, noi, e gli Oreo, loro! Bene, quindi due biscotti tipicamente industriali che si trovano in un supermercato, ma in versione casalinga! E quindi basta cianciare! Andiamo a preparare, bravo! Ed eccoci pronti per preparare i nostri Ringo! Allora, cosa ci occorre? Andiamo agli ingredienti! Ricetta gentilmente datami dalla mia amica Maria! Un bacio grande! E allora, 300 grammi di farina, 225 grammi di zucchero, 4 tuorli e 2 albumi, 2 uova entere più 2 tuorli in pratica, un pizzico di sale, 225 grammi di amido di frumento, 180 grammi di burro, 10 grammi di cacao amaro. Per il ripieno, la farcitura, ci occorreranno 225 grammi di zucchero a velo, 120 grammi di burro e della vaniglia. Io ho qua l'essenza di vaniglia, potete usare la bacca di vaniglia o, se preferite, la vanillina. Ne basteranno due bustine, una bustina e mezza. Cominciamo subito! Versiamo all'interno della planetaria lo zucchero, tutto quanto, ed il burro a temperatura ambiente. Fatto ciò, fate lavorare la vostra planetaria per un bel po', finché non si formerà una bella crema. Quindi mettiamo il pizzico di sale e le uova, che vi ricordo essere due uova entere più due tuorli. E continuiamo a lavorare finché non si ottiene una bella crema spumosa. A questo punto uniamo l'amido e la farina che avevo precedentemente setacciato. Io metto anche un goccino di essenza di vaniglia e, cominciando piano piano, preparo la mia frolla. Ok, a questo punto stacco l'impasto dal gancio, vedete una frolla molto, molto morbida. Divido a metà l'impasto e metà l'impasto lo trasporto in una terrina, perché sarà appunto la metà bianca del ringo. Questa adesso la compatto bene, bene nella terrina, copro con una pellicola e vado a posizionarla in frigorifero per un'oretta circa. Anche un paio d'ore, se no in freezer per mezz'oretta. Reinserisco il gancio a foglia e butto dentro i 10 grammi di cacao amaro. Faccio incorporare il cacao al rimanente impasto. Perfetto, finito il lavoro della nostra planetaria, la ripongo. E via in freezer per mezz'ora o in frigo per un paio di orette. A questo punto, preriscaldate il forno a 180 gradi e preparate due leccarde ricoperte di carta forno. Preparate un coppapasta e un goccino di olio di semi a portata di mano con cui ogni tanto ungeremo l'interno del nostro coppapasta. Stessa cosa per il timbro, se lo avete. Io ho preparato on-made, fatto con le mie manine, il timbro del ringo. Ho preparato anche quello dell'oreo, lo vedrete nel video di Maure Antonio. È il metodo di fabbricazione, vedete, è fatto con un tappo da bibita e il silicone diibile. Lo trovate qui, dove ce l'hai sul pallino ed è un video di arte per te. Quindi, prendiamo la frolla dal freezer e cominciamo a fare i nostri biscotti. E stendiamo velocemente la nostra frolla dandole uno spessore di 4 mm circa. Ricavato il dischetto di frolla, vi insegno ad usare anche gli stampini. Come si fa? Si schiaccia la forma del biscotto. Se lo vedete è regolare, perché questo coppapasta l'ho fatto io. Quindi si inserisce il timbro e si schiaccia, così. Si spinge fuori il biscotto, così. E piano piano lo si stacca anche dal timbro. Et voilà! Il nostro ringo è pronto. Poi, se devo pulire bene bene i margini, lo farò sempre con il mio coppapasta. Ovviamente questo, se vorrete fare dei ringo, pressoché, perfetti. Se invece volete fare dei biscottini, potete farli anche senza timbro. E non è che è una cosa necessaria. Quindi, inseriamo, schiacciamo, tiriamo fuori, distacchiamo piano piano. E sempre col coppapasta ripuliamo le sfrangiature del biscotto. E quello che avremo sarà questo. Un vero e proprio ringo! Che ne dite? Fate così con tutte le vostre paste afro... con tutta la pasta frolla. Uno per uno, poi adagiateli sulla leccarda del forno e infornate per 15 minuti circa all'interno appunto del forno ventilato. Unica accortezza, mi raccomando, i biscottini bianchi metteteli sotto quelli neri, perché loro non devono imbiondirsi, devono rimanere più bianchi possibile. Quindi, state attenti a non farli scurire troppo. Continuate il vostro lavoro di stampo e forma dei biscottini. Voilà! Perfetti! Sono troppo carini questi ringo! Infornate quindi per 15 minuti io infornerò con forno ventilato. Io continuo il mio lungo lavoro e noi ci vediamo dopo. Ok, la teglia di ringo nera è pronta, mettiamola in forno! E facciamo la stessa identica cosa con i ringo bianchi. Quindi facciamole altrettanti di quelli neri e mettiamo tutto in forno per 15-20 minuti a 180 gradi. Forno ventilato. Ed ecco qui la teglia di ringo bianchi in forno senza farli scurire troppo. E alla fine della cottura i ringo sono venuti così. E io ho fatto un grande errore. Che vi voglio dire? Perché non ho aspettato. Cioè, cosa ho fatto? Ho fatto gli stampini con i biscotti e li ho messi subito in forno con una frolla molle morbida. Quindi qualcuno ha perso la nitidità dello stampo. Voi non fate questa cavolata come ho fatto io, ma dopo aver stampigliato tutti i biscotti, metteteli con la leccarda in freezer per almeno mezz'ora. Fateli indurire benissimo e poi infilateli in forno caldo in modo che la frolla non si liquefaccia con il calore e non perda la stampa. Perché sennò è inutile tutto il traffico che abbiamo fatto. Vero ombretta? Vero ombretta? Ma se non faccio di queste cose non sono ombretta. Me lo ricorderò la prossima volta. L'importante è che voi lo sappiate. 225 grammi di zucchero a velo, un cucchiaio di, un cucchiaio è qualcosa, di essenza di vaniglia e 180 grammi di burro. Tutto in planetaria, a una velocità sostenuta, con gancio a frusta, che per intenderci è questo. Quello che dovrete avere è questa crema così bella, spumosa, guardate cos'è. Prendo il biscottino, inserisco la farcia e la spalmo così con un cucchiaino, prendo l'altra parte del ringo e schiaccio in questo modo. E il mio ringo, eccolo qua, bello e pronto per essere addettato. Accoppio a due a due tutti i biscottini. Ed ecco i nostri biscottini simil ringo, pronti per essere gustati, con un buon caffè magari. Che ne dite? Guardate, io ce l'ho qua. Mi raccomando, metteteli in freezer prima di metterli in forno, non fate come ombrettina vostra, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! E allora, via, mia colpa, mia colpa, ho fatto l'errore di avere fretta e di infornare subito i biscotti. Voi, dopo averli stampigliati, metteteli in freezer per una buona mezz'ora, quindi in forno a 180 gradi per 20 minuti e così verranno perfetti. I miei, in i miei, la scritta si è un po' afflosciata e quindi ruote il traffico del timbrino, insomma, ha lasciato il tempo che trova, ma se voi vi fate il timbrino vedrete che risulta se li mettete prima in freezer. Va bene, non ti preoccupare. Ora dove c'è la R che asomagli dà un po' di matita così si capisce che... Però, il sapore com'è? Il sapore è veramente buono alla faccia di cacca e del suo pulmino, e quindi... Bene ragazzi, allora, adesso che avete visto come si fanno i ringo andate a vedere come si fanno gli oreo nel canale di Mauro e Antonio. Vi mettiamo il link qui dove c'è lei col pallino e soprattutto fate i vostri biscotti. Noi di biscotti industriali già ne abbiamo fatti tantissimo, specie di quelli del mulino bianco. Abbiamo fatto gli abbracci, le macine, i cosi abbiamo fatti, i biscottini, i talallucci, e allora ve li mettiamo tutti qua dove c'è la I col pallino, voi andateli a provare e diteci quali preferite. Mandiamo un grande bacio a Mauro e ad Antonio, è sempre un piacere collaborare con voi, non facciamo più i preferiti insieme, ma voi rimanete sempre i nostri preferiti. Quindi, noi ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!